Il conto alla rovescia è quasi terminato per l'avvio dell'obbligo di emissione della fatturazione elettronica da parte dei titolari di partita IVA, eccetto piccole imprese in regime forfettario, piccoli agricoltori e operatori sanitari, più che giorni mancano ore, ma secondo l'osservatorio della Confesercenti in provincia di Padova la situazione è tutt'altro che rassicurante. C'è un primo problema due giorni dall'entrata in vigore, il 42% non è ancora attrezzato. Abbiamo delle punte, diciamo, che più attrezzate, dei comparti sono più attrezzati come quelli delle auto, le auto ormai raggiungono livelli del 78% di, sono pronti, diciamo, mentre pubblici esercizi, ristorazione, eccetera, siamo intorno al 25-30%. Nel dettaglio che è messo peggio, secondo l'osservatorio della Confesercenti, il commercio a dettaglio, il 75% non è ancora pronto, oppure ancora gli alberghi e i pubblici esercizi dove la percentuale scende ad un comunque altissimo 67%. Siamo riusciti a ottenere anche una non penalizzazione, almeno per sei mesi, quindi non si pagheranno delle sanzioni in questi primi sei mesi fino al 30 giugno, però poi anche le sanzioni partono, quindi bisogna in qualche modo in questi pochi giorni adeguarsi. Non so, ha concluso Rossi, se l'obiettivo del Ministero delle Finanze è di costruire una banca dati di tutti i movimenti fiscali del Paese sarà raggiunto a breve, ma in attesa dei dichiarati vantaggi ministeriali seguenti all'introduzione della fatturazione elettronica, tutte le piccole imprese si sentono ancora una volta tartassate e colpite con ulteriori costi e doneri burocratici. Grazie.